Calcio Serie C, il Gubbio di Lapida, due gol di vantaggio dopo 16 minuti e impatta 2-2 con Renate, esonerato a fine gara Pagliari, l'annuncio in diretta su RGM dal DS Pannacci, domani forse il nome del sostituto, probabile chance per Sandreani Volley stasera in campo Sir Perugia e Ancara al Palevangelisti, dopo il 3-0 dell'andata basta un set alla squadra di Bernardi per passare il turno Buonasera e ben ritrovati con l'informazione sportiva da TRG un mercoledì che segna dunque l'esonero del tecnico del Gubbio Dino Pagliari dopo il 2-2 scaturito nel pomeriggio tra Rosso Blu e il Renate, un turno infrasettimanale decisivo dunque per la panchina Eugubina che vede il secondo esonero della stagione, ma ora vediamo il servizio della gara con la doppietta di Casiraghi in apertura la rimonta dei Brianzoli e in coda l'intervista al DS Giuseppe Pannacci rilasciata in diretta a RGM con cui ha annunciato proprio l'esonero di Pagliari vediamo al decimo, cross dalla tre quarti di Simonetti, torsione aerea di Gomez che colpisce in pieno il palo alla finestra di Volpe con la sfera che termina poi a lato sedicesimo minuto, il Gubbio recupera palla dinanzi alla propria area, con il Renate tutto sbilanciato in avanti lancio lungo per Marchi che fa la sponda per la corrente Casiraghi che corre verso la porta, penetra in area, salta secco in sterzati il ritorno di Vannucci ed infila di Gregorio con il mancino 2-0 Gubbio, doppietta e quarta gioia personale stagionale per il numero 10 Rosso Blu non succede più nulla sino al 43esimo quando il Renate di colpo riapre il match, Anghileri spinge sulla corsia destra, rientra sul mancino e crossa sul secondo palo per l'isolato Lunetta che vedere spingersi il primo tentativo da Volpe ma sul tapin trova il gol, travolgendo anche il portiere Rosso Blu timide proteste Gubbine con Volpe che resta terra dolorante ma il gol è regolare ed è la quarta rete stagionale per l'ex di turno finisce così il primo tempo nella ripresa Pagliari toglie subito Bergamini e Ciccone inserendo lo porta Giacomarro ed è proprio l'ex Melfi a provarci da fuori area pallone a lato, al centattesimo pericolosi Renate dagli sviluppi di un corner con Pavanna che serve al limite Finocchio, conclusione respinta in angolo dal tuffo di Volpe al centattesimo Gomez cadinare dopo un contatto con Paulelli, gli ospiti chiedono il penalty ma per l'arbitro longo della sezione di Paola è tutto regolare due minuti dopo ha solo Di Palma che porta a spasso avversare in serie decentrandosi sulla destra, cross sul primo palo per l'incornata del subentrato di Luca ed è prodigioso il riflesso di Volpe che nega il pari a Prianzoli ottantaquattresimo minuto, sempre dagli sviluppi di un corner, Palma crossa dalla destra, sponde area di Gomez per Di Gennaro che con un poderoso colpo di testa insacca la sfera all'incrocio dei pali dove Volpe stavolta non può proprio arrivare il Renate trova il 2-2 grazie al secondo sigillo stagionale del difensore nativo di Ascoli Piceno dopo 4 di recupero termina 2-2 il match del Barbetti, un punto che muove la classifica ma non può certo far sorridere gli agubini che non riescono più a vincere e restano sempre ridosso dei play-out e sabato sera alle 20.30 c'è lo sconto diretto di Ravenna al Benelli è un risultato con rammarico per come si era messo la partita e per quello che era la posta in palio era una partita al quale noi dovevamo vincere per poter in qualche maniera poi venire fuori non dico automaticamente ma visto il risultato di oggi e visto quello che erano le situazioni sicuramente mettevamo una buona pietra sopra abbiamo iniziato bene poi come al solito siamo ricaduti sempre negli stessi errori stiamo a commentare questa volta non una sconfitta ma un paraggio che lascia molto molto amare in bocca da questa situazione, da questo risultato scaturisce il fatto del ringraziamento verso Dino Pagliari e quindi la sospensione del rapporto fra la società S-Gubbio e Dino Pagliari e sicuramente nella giornata, nella mattinata di domani comunicheremo quello che sarà il nuovo tecnico del Gubbio per questa fine stagione potrebbe essere Sandreani, potrebbero essere altre persone quindi ci sono due o tre situazioni, valuteremo tutte quelle che possono essere situazioni più consone e più idonee per questo momento e per questa situazione e poi ve lo renderemo pubblico Un momento delicatissimo anche perché tra l'altro c'è un cambio di allenatore a pochi giorni dalla prossima partita Sempre devo avvenire, Livorno insegna sotto questo punto di vista quindi se noi pensiamo sempre a questo automaticamente perdiamo d'occhio quelle che possono essere delle situazioni e delle problematiche da analizzare quando si devono prendere delle decisioni si prendono si potevano prendere domenica prova ne sia che quando vengono analizzate le cose vengono fatte con molto serietà poi uno può indovinarle o non indovinarle che siano giuste e che siano meno giuste Oggi questo tipo di situazioni si porta ad analizzare per quello che si è visto in campo dopo il 2-0 ci porta ad analizzare una situazione non soddisfacente, negativa onde per cui urge in qualche maniera invertire questo tipo di situazioni per far sì che possiamo venire fuori quanto prima possibile E come detto tra i nomi papabili per la sostituzione di Pagliari c'è quello di Alessandro Sandriani, attuale tecnico della Berretti stasera è stato, diciamo, può essere un momento di riflessione è probabile già un incontro tra il tecnico delle giovanili rosso-blu e la dirigenza ma solo domani se ne saprà di più e si saprà eventualmente se ci saranno altre piste La giornata di campionato peraltro si chiude solo stasera con i tanti posticipi delle 20.30 intanto da segnalare l'unica buona notizia del giorno per il Gubbio ovvero la sconfitta al 92esimo del Teramo battuto a Bolzano 1-0 con un gol di Sgarbi per ora in classifica rosso-blu agganciano proprio gli abruzzesi che hanno una gara in più rispetto al Gubbio e sono a quota 28 come il Gubbio e che verranno al Barbetti il sabato santo ovvero tra due gare per la sfida diretta stasera occhio per la lotta salvezza alla gara Fano-Reggiana mentre sia Ravenna che Sant'Arcangelo riposano in serie B doppia seduta per il Perugia che domenica alle 20.30 sarà di scena al Manuzzi per sfidare il Cesena Breda non potrà contare sugli squalificati Volta e Cerri quest'ultimo peraltro impegnato con l'Under 21 in difesa della Fiore favorito su Belmonte per affiancare Volta e Magnani centrocampo che dovrebbe essere lo stesso della gara interna con lo Spezia mentre in attacco è certo l'esordio dal primo minuto di Diamanti a sostegno di Di Carmi ma oggi si giocava anche in eccellenza regionale 26esima giornata non varia nulla al vertice la Subasio impatta Reti Bianca-Ponte-Valleceppi resta in vetta complice il contemporaneo 2-2 nel big match tra Bastia e Cannara Assisani sempre a più 2 dai Bastioli a più 3 dai Cannaresi ma ora solo 4 partite dalla fine Blitz d'autore invece del Fontanelle-Branca capace di espugnare il Migaghelli di Santa Maria degli Angeli 2-1 contro l'Angelana grande protagonista Marco Gaggiotti autore di una doppietta e il bianco-blu a più 4 dalla zona play-out il Petrignano fa suo lo scontro salvezza 2-1 contro il Ventinella l'Orvietana batte il Castello del Piano mentre lo Spoleto regola il Trasimeno si disputa domenica Lama-Massamartana con i massatani infatti che oggi hanno disputato l'andata di Coppa Italia nazionale contro il Grosseto pareggiando in trasferta 1-1 chiudiamo con il volley Champions League torna in campo stasera il pale evangelisti la Sir Colussi-Sicoma-Perugia che affronta le 20.30 i turchi del Ankara per il match di ritorno di play-off 12 della massima competizione per club a livello continentale si parte dal successo dei perugini per 3-0 all'andata in virtù del quale a Perugia servono almeno due set per essere certa di accedere ai play-off 6 anticamera della Final Four in caso di vittoria domani in caso di vittoria scusate stasera 3-0 tra uno dei turchi sarà invece il Golden Set a decidere la Sir sarà poi nuovamente in campo domenica prossima per la decisiva gara 3 dei play-off Scudetto contro Ravenna sempre al palazzetto di Pianni-Massiani si chiude qui la nostra edizione del TG Sport caratterizzata soprattutto dall'esonero del tecnico del Gubbio Pagliari dopo il 2-2 di oggi dei Rosso-Blu vi abbiamo mostrato il servizio tutto questo ritroverete anche sul sito trgmedia.it grazie per l'ascolto e buona serata grazie per l'ascolto e buona serata